Con la gente e per la gente. E questo è il motto della consigliera regionale Filomena Calenda che ha inaugurato la sua nuova sede elettorale in via aberta. Al taglio del nastro presenti numerosi big della politica regionale tra cui il governatore Donato Toma, il presidente del consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone e diversi amministratori locali, amici e sostenitori. Una serata di politica e soprattutto una serata per ringraziare quanti hanno creduto nell'azione politica di una donna con gli attributi. Una donna che ha fatto della questione umana una sua battaglia personale di vita. L'esplorato alla Lega e l'elezione in consiglio regionale hanno fatto poi il resto. Alla nostra redazione la consigliera Calenda ha spiegato il perché della scelta di aprire una sede politica di Isernia ed il momento che sta vivendo la Lega sul territorio regionale molisano. Un inizio non è un traguardo perché davvero da qui parte il mio percorso di politico regionale, come sempre vicino alla gente e ho voluto fortemente questa sede ad Isernia perché ovviamente su Campobasso ho gli uffici regionali dove sono a disposizione di tutto il popolo molisano della provincia di Campobasso mentre Isernia che comunque è un pochino più distante dalla sede di Campobasso aveva bisogno di un punto di riferimento. Ho voluto fortemente essere presente nel territorio dove io ho vissuto per tanti anni perché la gente comunque mi reclama, infatti qualcuno mi diceva da quando sei a Campobasso ci hai abbandonato, allora io ho dovuto dare un segnale di presenza perché io sarò tre giorni a Campobasso e tre giorni ad Isernia, così non si dispiace a nessuno. Lavorando con tutto il mio staff su una proposta di legge per quanto riguarda i piccoli imprenditori e questa è una proposta di legge che non vi voglio anticipare perché sicuramente la lavoreremo in maniera proprio veloce perché i nostri piccoli imprenditori hanno bisogno di risposte perché il nostro popolo molisano è un popolo martoriato, purtroppo abbiamo disoccupazione e i nostri imprenditori non sanno come fare per sbarcare il lunario, quindi io sono sicura che lavorerò innanzitutto per le piccole e medie imprese ma soprattutto lavorerò per tutti i molisani, sarò a disposizione e al servizio di tutte le persone che hanno bisogno di avere anche un consiglio perché oggi la gente non vuole solamente delle risposte, la gente deve ascoltarla. Della Lega siamo persone serene, abbiamo voglia di lavorare e probabilmente riusciremo anche a fare quello che davvero abbiamo come idea politica del nostro Ministro Salvini. La Lega in Molise è propositiva, siamo inclusivi e sicuramente però inclusivi ma di tutti coloro che vogliono aderire alla Lega perché ne sposano i principi, quindi non perché adesso la Lega è il partito che va oltre il 30%, insomma io credo che nella Lega sono tutti benvenuti, tutti coloro ripeto i quali vogliono lavorare per il bene del Molise, per il bene del nostro amato Molise.